Ciao viaggiatori, questo video messaggio è per ringraziare ognuno di voi per l'amore, l'impegno, la volontà e la manifestazione di tutto ciò che avete compiuto in un giorno, in un giorno soltanto. Da ieri pomeriggio alle 17 circa che è stata pubblicata questa campagna di raccolta fondi per il funerale della mamma di Marina, è passato un giorno, quindi sono 24 ore, poco più, e abbiamo già raccolto 1100 euro. È straordinario, io sono veramente al settimo cielo per questa bellezza, per questa abbondanza, per questo amore che state dimostrando e manifestando. Stamane Marina quando l'ho informata ed eravamo più o meno a quota 7-800 euro, si è emozionata e ha detto, ma solo pensare che queste persone hanno voluto donare una parte del loro cuore per me è qualcosa di quasi di incredibile. Ed è veramente incredibile quello che tutti assieme stiamo facendo per questo obiettivo. Quindi volevo ringraziare ognuno di voi per tutto quello che sta facendo, per la condivisione, per il contributo, per l'amore e per l'impegno. Grazie veramente dal mio profondo del cuore e grazie da parte di Marina chiedo veramente di continuare a divulgare questo messaggio, affinché questo messaggio possa veramente dimostrare al mondo intero che uniti possiamo veramente fare qualcosa di straordinario e possiamo veramente sostenerci e sorreggerci l'uno con l'altro, lasciando andare i conflitti che ci porterebbero lontano dal cuore. E quindi continuiamo a tenerci la mano, a sostenerci e a rimanere uniti perché uniti siamo veramente più forti. dimostriamo che l'amore veramente può fare qualcosa di straordinario ed è l'amore l'unica risposta a tutto quello che là fuori non ci piace. Io vi ringrazio veramente di cuore per aver raccolto questo mio messaggio, questa mia richiesta e vi ringrazio anche a nome di Marina. Vi abbraccio veramente nella luce e nell'amore con tutto il mio cuore. Ciao viaggiatori e continuerò a tenervi aggiornati, informati chiaramente, sull'andamento di questa raccolta fondi. Ciao!